qual'è la pavola striscia del volo? le macchine non voglio dirci niente ma anche 60 mila euro che poi io non faccio mica l'NCC che ho bisogno di essere tutto perfetto e così io ho il bed and breakfast un giorno se ci chiedono di andare da qualche parte così ci posso mettere capito? ora quello lo fa per lavoro per l'amor del cielo è un altro discorso anche perché ammortizza, scarica ammortizzi, ci prendi lì in sopra fai tutte le storie lì certo se fai specifico al lavoro in quella maniera ce le puoi spendere se no avanti di aver preso 60 mila euro di qualche tour perché vogliono andare a Pisa o ci lavori parecchio eh si per fare per lavoro il problema è che Carlo Villa 11 ci vuole la licenza la licenza non è facile anche lì la verità l'avevo trovata ma poi ho detto 50 mila euro la licenza tanta roba anche lì anche lì o ti ci metti veramente a farlo quel lavoro lì che non è male la moglie c'è però però devi fare o fai l'NCC o fai la guida però lo sai che io penso che una persona come te lì 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 invited lì lì la lì 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 Grazie. 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 And here we have another valley. Maybe for the little villages. And Florence is behind the hills in front of us. Grazie. 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 Grazie.